Ciao a tutti da Londra, mi chiamo Barbara Vittarini e mi sono laureata in Ingegneria Informatica ed Elettronica a Perugia nel 2008 e ho conseguito il dottorato di ricerca sempre per Perugia nel 2012. Ora lavoro come Research Associate all'Università di College London. Ingegneria Informatica ed Elettronica di Perugia mi ha davvero dato tanto. Sicuramente lo studio è stato impegnativo, ma non la di insormontabile, soprattutto grazie alla disponibilità che i professori e assistenti hanno dimostrato per risolvere qualsiasi tipo di problema o chiarire qualsiasi dubbio. La preparazione che ho conseguito è stata davvero ottimata, tanto che non ho avuto alcun problema di inserirmi nel mondo del lavoro ed ho notato anche che non ci sono state differenze con altri laureati provenienti da prestigiosi università sia in Italia che all'estero. Ora lavoro come ricercatrice all'University College London che è una delle università importanti a livello mondiale. Stiamo sviluppando un software per il trattamento non invasivo di alcuni tumori e sto collaborando con altri ingegneri informatici ma anche medici e chirurghi. Abbiamo iniziato una sperimentazione su 1.100 pazienti. Quello che sto facendo mi piace davvero tanto e lavorare in questo ambiente e vivere in una città come Londra è davvero stimolante. Se sono qua devo ringraziare anche l'ingegneria informatica ed elettronica e la preparazione che ho ricevuto. Quindi se posso darvi un consiglio andate sul sito web del Dipartimento di Ingegneria e informatevi sul corso di studi di ingegneria informatica ed elettronica. Per adesso buona fortuna per il vostro futuro e arrivederci dall'oltre. Good luck for your future and goodbye from Londra.